zio jack è in casa signor jack o la devo chiamare con lo suo vero ok va bene va bene anche così va bene anche così signor jack va bene tranquillo 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 fermo lì bravo del trasporto qua sopra che non è affatto male dobbiamo un attimo chiarirci l'idea perché secondo me lo zio jack si oh oh bello bello per noi si buona il ritornato è ritornato sotto il vicino tra vicino a pochissima vita però molto molto buono si fa l'attacco da facciamo se stesse uomo tigre è la tua fine e arrivederci signori miei da ora in avanti possiamo utilizzare solo e solamente armi mitiche questa challenge è da pazzi ma la voglio fare per voi ci dobbiamo provare assolutamente non siamo tanto fortunati perché la tempesta ha già chiuso da tutt'altra parte io direi se riusciamo prendiamo tutte le armi mitiche a disposizione aspettate che dobbiamo troppare ho preso una abbordata di armi quindi proviamo a scendere anche dal salsicciotto che è qua sotto o altrimenti andiamo direttamente dalla dottoressa donna no io però avrei il salsicciotto che è qua sotto proviamo a scendere tanti mi dobbiamo imbucare da quest'altra parte speriamo soprattutto che non ci siano porca la miseria appena detto non abbiamo tempo da perdere con lui ci dobbiamo smergare assolutamente mi serve un'arma da vicino dove diamo il boss bussicchio signor bussicchio boss boss maledì questo sta mangiando belle ok possiamo tranquillamente dire che abbiamo avuto un problemino ed eccolo lì in faccia belle io lo abbiamo trovato uno sport niente male sopra sta montagnetta è ottimo perché almeno forno non si prende anche di qua ci prende anche di qua abbiamo 300 colpi ci possiamo divertire a prenderlo ammazzonate ci dobbiamo spiegare però l'unico problemino è che o mio dio ma si prende la cifra ho pensato come sto spiegati ok noccato guardie ferme è sempre immune ok ora non mi morire come prima signorina brava brava ci dobbiamo spiegare è partita la tempesta c'è una guardia no non c'è nessuno se non sbaglio molto molto buono e lut e di qua di qua di qua prendiamo tutto avremo anche la card a dire il vero ma è meglio spiegarci e andare dalla dottoressa zona perché il nostro obiettivo è prendere anche l'assalto della zia slon quindi io farei una roba no no forse non facciamo in tempo forse non facciamo il no no vai su vai su non giù su su portami su portami su spregate pure ok dobbiamo trovare dobbiamo trovare dobbiamo ok facciamo così facciamo così facciamo la vecchia maniera ovvero ce ne andiamo da questa dov'è la dottoressa zona alla fortezza fermi che è un pezzettino in safe quindi probabilmente ce la possiamo fare o mio dio prendere l'arma del dell dell'uomo tigre non è stato affatto semplice per la seconda volta occhio nella speranza che ok non credo ci siano player in mamma mia che silenzio che c'è qua la dobbiamo trovare la dobbiamo smazzolare subito dov'è non hanno fregata c'è troppa troppo troppo tutto qui in giro e dobbiamo trovare dobbiamo trovare i monelli che ci hanno rubato l'arma della dottoressa slon maledetti occhio che un sergente fringuellino l'ho peccato quanto ci prende star ma dalla distanza 4 ci prende non ha niente di oro fermi all'arma ma non è quella è verde 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 le nostre ricerche continuano siamo assatanati di armi mitiche oggi sento puzza di arma mitica da stimi che a croce via stanno sparando e sicuramente sono loro sono strega ok sparano con il campo quindi prova ok uno dove o mio dio dove sono però sono lontanissimi io quasi quasi mi farei anzi prendiamole ground con quest'arma possiamo sparare anche da una distanza colossale infatti vediamo se riusciamo a prenderli e prendiamo ok 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 lo vedo lo vedo lo vedo c'è qualcun altro anche qua sotto è proprio qua vicino a noi ci avviciniamo un pochettino perché ho fatto a sentirci ma che diavolo è occhio o mio dio alle orecchie bioniche questo tizio ma dove diamo era mi asco o mio dio non cado non cado non cado fermi 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 che c'è un altro tartarugone no 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 vieni qua vieni qua dacci l'arma si vuole nascondere da noi ma non lo sa che abbiamo il mirino termico vieni qua formatino ormai o mio dio ti prego ti prego no no sì sì no maledizione a lui dobbiamo andare dobbiamo andare comunque ho capito fermi fermi che c'è qualcun altro o mio dio che paura no 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 ciao belli io mi vado poco c'è qualcun altro official quello per un cinghiale ecco il vigliacco ecco il vigliacco che scappa fermo 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 mi voleva triturare lo schifoso guarda le armi che ha oddio mi si rimbassa in automatico e lui no è leggendario fermi ma non è lui no questo tutte armi leggendaria ma come diavolo fa averle comunque ufficialmente non è lui attenzione che ci potrebbe essere l'amico io farei una roba che non sapeva scrivere ciao belli attenzione o mio dio lesgo questo era l'amichetto questo era l'amichetto l'abbiamo villato super killetta furbetta andiamo e ha pillato anche un altro player in o noi stiamo facendo che le stiamo vedendo giocata assurde ma del va fucile della dottoressa slone non c'è traccia non so a questo punto davvero se magari era quello lì che ha già droppato quel sargenti abbiamo villato dell'interno di crocivia ma non credo perché ho letto leggendario però mi sembra strano che quella aveva tutte armi leggendari aveva un culo assurdo e amici miei mi raccomando all'interno del negozio getti inserite il codice più fresco del centro italia r4 vedo dei gattini che si stanno muovendo ora non vedo più perché sono gli alberi vediamo se magari sì 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 qua sopra ci dovrebbe essere ok lo vedo che riusciamo a prenderlo come si fa zig zag che si rigira detto vedere che è quello che ci spara 32 32 lui prova non riusciamo a darvi su sì che riusciamo molto voloso occhio per ai cecchini non so se è da solo ma credo o vieni 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 cucciolo che ti metti a pezzi una bella fai una bella oh mio dio no signori è sbroccatissima star ma lo andrei pure pure a pusciare occhio sta pescando il figliacco che non stanno attenti alle cecchinate però tante volte qualcuno ci prende col cecchino è bello che ci vedo per noi il game dov'è ma dov'è è sotto il ponte ma quando diavolo ma sono due uno lo deve usare per forza le chiappe maledetto questi sono due fenomeni e probabilmente ce l'hanno loro probabilmente la sua porta come ti ha lasciato l'amico indietro occhio occhio è una buona situazione questa per noi ora loro sicuramente se ne approfittano perché io devo andare in safe sono stati molto più furbi di noi mi sono lasciato prendere ma dobbiamo fare tantissima strada e occhio o più occhio occhio riprendo 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 vediamo se da qui c'è ancora io l'ho noccato non so che diavolo sta succedendo io però devo fare una cosa devo scappare assolutamente questa situazione andiamo da quest'altra parte occhio 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 perché se mi sparano sono belli che morti non mi hanno sparato dove sono dovrebbero essere da sti vizi io non ho più escape è uno eccolo bravo bravo sparami sparami occhio l'amico parte o forza la miseria che brutta situazione stiamo vedendo una portata in pc 64 di vita fermi fermi è venuto sì 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 è quel momento momento il momento passia è il momento passia per noi salve no 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 non un buon momento a dire il vero questo momento passia si sparo oh oh sui bianchi occhio sparano alti non capisco dove io questo oh oh no ci sparano dietro brutto brutto momento brutto 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 momento anche perché non abbiamo tantissime escape star ma non mi piace per le grade no ragazzi perché non è no tutti amici tutti amici oggi questi da quando dobbiamo provarla dobbiamo provare di prego fermi fermi stami tra gli estadi di dd ok metto toccato uno l'amico lo va a restare come un pollo sei castrato guarda le armi che hanno questi occhio non ho capito che mi sparavo dalla distanza 25 secondi stanno sparando altri raggiungo e dobbiamo andare a sciagallare un roncino sicuramente dei desideri fatemi vedere se hanno pure quell'armetta fammi vedere pure se hanno quell'armetta della signoria che diamo l'ho preso il pump belle se gradine non hanno ma fermi non hanno nulla ma come è possibile ma che c'è l'allarma della dottoressa sloan facciamo un rapido change ok perfetto quattro player in i vivi noi non abbiamo tanta tanta vita io quindi mi farei questo medikit l'esperienza non ho capito chi mi sparava c'erano dei player in da quest'altra parte che sparavano sicuro fermi stavo perché sicuro team da 2 64 buono anche sicuro mi sparano sono bravi sopra i sopra i molto molto bravi occhio perché se mi bussiano e se mi bussiano quasi non shield vediamo se l'altro arriva o porca mi spara pure quell'altro ho fatto l'errore di mettermi contro tutti porca la miseria guarda che paghi lato fammi vedere se almeno questo aveva l'arma della dottoressa sloan e nemmeno questo non ce l'aveva terza posizione not bad mi raccomando amici mielli terra nega soggetti inserite utilizzate il codice più fresco del centro italia r4 iscriviti al canale attivatevi appogliatelo di pietro e poi un bel like furbetto se ancora non l'avete fatto ora vi lascio due video bomba che dovete assolutissimamente andare a vedere noi ci vediamo prestissimo con tante altre news l'estra l'estra l'estra